Ci troviamo all'interno del Comitato Regionale Lombardo e sono in compagnia di Cordoba Andres Domingo. Detto bene il tuo nome innanzitutto? Sì, perfetto. Allora, Coppa delle Regioni Endurance, quindi uno dei partecipanti di questo grande team. Che soddisfazione, che gara è stata? Sì, è stata una bella gara. Abbiamo partecipato per la quarta volta, ho partecipato a questo trofeo delle Regioni. In Toscana questa opportunità e abbiamo avuto la fortuna di vincere. Di vincere. Allora, senti, da quanto tempo monti innanzitutto? Qua in Italia sono 12 anni che monto, che faccio anche questa disciplina e con il mio team andiamo praticamente tutte le gare. E il tuo sponsor? Il mio sponsor è il signor Daniele Rusconi, che è proprietario della scuderia per cui io lavoro e che la persona qui mi dà i cavalli. Bene. Come ti sei avvicinato a questa disciplina? La prima volta, te lo ricordi? Il tuo primo ricordo? Sì, il mio primo ricordo è... avevo fatto comprare un cavallo alla mia ex ragazza e andavo a fare praticamente assistenza. Poi mi sono un po' appassionato, ho cominciato a montare anch'io e sono partito a fare le gare. E da lì è nata questa grande passione che continua tuttora. Sì, sì, praticamente non l'ho più smesso e è diventata una malattia, diciamo. Come sono i vostri rapporti con il Comitato Regionale? Vi è vicino? Vi sostiene? Sì, diciamo il Comitato Regionale Lombardo ci sostiene, ci dà tanti aiuti, ci soluziona tanti problemi che noi cavalieri spesso abbiamo. Prossimi obiettivi? Prossimi obiettivi? Il campionato europeo l'anno prossimo, sempre il trofeo della regione, si va tutto bene, si ci convocano e partecipare sempre a queste gare. Come tu ben sai, la FISE ormai è commissariata da due anni. Questa situazione, incresciosa oseremo dire, volgerà al termine grazie alle prossime elezioni, quindi sta per essere eletto un nuovo presidente. Ecco, tu chi vorresti come nuovo presidente della FISE? Guarda, io non so chi si sono proposti, ma l'unico che conosco è il Cavaliere Orlandi, che mi sembra la persona giusta, innanzitutto perché un Cavaliere conosce le nostre esigenze, come Cavaliere sia dentro il campo anche fuori. Certo, la situazione, comunque ti sei fatto un'idea della situazione della FISE, della Federazione Italiana Sport Equest, rispetto per esempio alla situazione lombarda, la FISE di Roma, come la vedi? Io vorrei tanto che la FISE di Roma funzionasse come funziona la FISE in Lombardia. Serebbe tutto più semplice per noi cavalieri, anche per i proprietari dei cavalli innanzitutto, che sono quelli che si sponsorizzano e che ci permettono di andare avanti a fare questa disciplina. Direi che hai detto tutto, grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi.